Ciao a tutti e benvenuti nella mia cameretta studio, io sono Samuele e questo è Mamma me lo compri qui parliamo di action figure, collezionisti e tanto altro ci vediamo dopo la sigla che vi faccio vedere le BST AXN di The Loyal Subject ultimamente escono molti video dedicati alle tartaruga ninja perché vabbè mi piacciono e quindi me le prendo allora questa è stata una incredibile scoperta per sbaglio cioè io sapete ho un sito mamamelocompri.com dove potete ordinare, apro parentesi, iscrivetevi a questo canale perché per voi è gratis e non vi costa nulla, intanto vi faccio vedere ogni tanto delle grandi action figure vi porto un po' di novità anche sugli shorts, chiusa parentesi quindi iscriviti, iscriviti al canale grande scoperta perché dal mio sito mi sono arrivati gli ordini di queste BST AXN che io ho sempre sottovalutato, molto sottovalutato nel tempo come brand The Loyal Subject errore, io sul sito non so che cos'ho perché si autoaggiorna e fa le cose mi arrivano questi ordini qua e dico boh vabbè non lo so poi la collaborazione con il gruppo Instagram TMNT Italia le pubblica queste che sono in sconto perché costano la metà in questo preciso istante di quello che costerebbero le trovate qua sotto, ve le allego se ci sono ancora ovviamente e quindi iniziano a ordinarle, faccio un reel ieri e cazzo mi arrivano 5 ordini allora dico ma perché aspetta un attimo, cos'hanno di bello queste? allora me le vado a guardare bene e apro questa scatola che mi è arrivata dal fornitore così scassata quindi dico vabbè la apro questa la rivenderò su Vinted come usata le apriamo e ragazzi allora innanzitutto The Loyal Subject è un brand che è poco costoso cioè nel senso ha una fascia di prezzo molto accessibile perché fate conto che a prezzo pieno queste sono 20 euro ognuna quindi 80 euro per tutte e quattro adesso si trovano circa tra i 45 e i 50 euro spedite da me perché sono scontate quindi sempre lì, se ci sono ovviamente quindi il prezzo già intorno ai 50 euro spedite è buonissimo un gran prezzo per questo tipo di prodotto sono la versione Battle Damaged ed è vero sono grigie e molti mi chiedono anche ah ma sono originali, ma certo che sono originali raga e che sono una fascia economica innanzitutto andrebbero acquistate secondo me per il packaging il packaging l'ho trovato veramente spaziale lo trovo veramente veramente carino l'unico problema mio è che per spedirlo ho bisogno di scatole un po' strane quindi sono un po' particolari e mi fanno girare un po' i maroni mi fanno girare comunque adesso le andiamo ad aprire e ve le faccio vedere meglio nel dettaglio intanto come state? Spero tutto a posto commentate, iscrivetevi, mi chiedo veramente la cortesia di iscrivervi perché mi fate un grandissimo favore va dentro c'è qualcos'altro no, posto così allora le andiamo a vedere ovviamente blister di plastica B, S, T, A, X, N, logo come in tutte le loro figure c'è quell'adesivo che ci richiama che cosa sono le andiamo a vedere una alla volta le apro in modo molto veloce rispetto a Nega non mettono i laccetti tranne che su questa parte qua che adesso allora ragazzi queste sono fatte in vinile sarà anche quello che il costo è più basso sono alte circa 13 cm e sono molto molto carucce eccola qua, Raffaello ve la faccio vedere in questo preciso istante ovviamente Graffi del Sangue Rosso che risalta su questo nero e grigio questa scala di neri anche la bandana rossa risalta parecchio e queste eccola qua col guscio dietro e tutta una serie di accessori che poi andiamo a vedere per quanto riguarda gli snodi abbiamo gomito snodi come la maggior parte delle action figure vedete non sono fatte male comunque sono fatte bene rimangono in piedi lo scopriremo ve lo dico a breve piede che si snoda ve le faccio vedere qua e cacchio cioè ok si sono grigie allora questo potrebbe non fare impazzire molti ah si sono grigie però tartarughini che hanno la dimensione un po' di quelle degli anni 90 tartarughini carini stanno in piedi la risposta è no non stanno in piedi e non hanno neanche il peg sotto per metterle dritte quindi questa è un po' una rottura di cazzo sinceramente una rottura di cazzo la cosa bella è che ognuna di loro ha una testa intercambiabile quindi noi possiamo ve la lascio vedere nel blister qua vedete noi abbiamo questa testa qua e poi abbiamo questa che si può cambiare ed è facile cambiare la testa su queste tartarughe ninja lo scopriamo subito la testa ruota eh vediamo se la rompo me la tengo io ok peghettone e testa intercambiabile ma insomma queste sono quelle cose che vanno andrebbero scaldate col phon raga vabbè l'ho messo un po' di merda andrebbero scaldate col phon una volta scaldate col phon poi rimangono dentro ecco questa vabbè però per il prezzo che hanno va bene anche così va bene anche così ovviamente abbiamo anche quattro no due paia di mani di ricambio faccio vedere volantis perché raga tanto che cazzo me ne frega l'importante che ci siano queste qua mani due di queste e due coi pugni più chiusi questo vale per tutte praticamente due che tengono le armi due coi pugni più chiusi e qua due coi pugni più chiusi eccole qua e quelle che ho le mani aperte che hanno già su e una miriade di accessori veramente tantissimi sono veramente infiniti abbiamo questo questa roba qua fatta sempre vabbè è una plasticaccia però questo ah ecco questo si mette qua dietro non l'hanno messo insieme perché sarà più comodo così e si mette qua dietro merda ognuna di loro ha questa praticamente si mette qua vedete schiacciate e all'interno ci vanno le le armi però ditemi ditemi che è brutta cioè ditemi che è brutta non è brutta cioè dai cazzo cioè raga per il prezzo che hanno cioè vanno da paura voglio dire te le tieni insieme a delle altre le metti un po' lì e niente le tieni per per esposizione cioè sculpt ovviamente roba fatta abbastanza bene semplice semplice si parla di cose semplici vabbè abbiamo visto Raffaello mettiamo via un po' di cose raga ci sono vari accessori che poi vabbè li potete vedere anche nelle foto sulle scatole non è che sto qua farvi la iper recensione volevo farvi capire che The Loyal Subject fa delle cose fatte bene ognuna ha test intercambiabili ognuna ha le armi ve lo ripeto e ribadisco quindi abbiamo queste tutte qua eccole qua vedete loro sono altre tutte uguali le teste si cambiano e siamo molto felici che le teste si cambiano ognuna ha diciamo le sue sfumature diverse da battaglia quindi il sangue da questo lato qua piuttosto che questo lato qua sono molto simili di sculpt quello che cambia sono le armi di per sé abbiamo anche dei pezzi di pizza abbiamo un po' di cosette differente sono molto molto carucce tutte interscambiabili in realtà quello che volete tanto non è che si riconoscono hanno tutte la bandana nera poi ognuna di loro ha anche le cose per metterle dietro nei gusci quindi le armi possono essere armate tutte quante questa un altro tipo di arma che non so cosa sia sinceramente anche lei sporca leggermente leggermente sporca di grigi scuri qua davanti non so se sporca per un difetto o per altro eccole qua vedete un paio molli tanto molli tanto molli questo anche grigio scuro sarebbe stata molto molto carina che dire io boh allora sinceramente così guardandole per il prezzo che hanno in questo momento che sono iper scontate direi che cioè ne vale assolutamente la pena sono delle piccole tartaruga ninja non perché ve le devo vendere io ma perché veramente mi sono ritrovato in un momento della vita in cui le ho viste dico boh perché me ne comprano così tante perché di qua perché di là e alla fine ho capito perché ho capito perché perché sono effettivamente interessanti cioè sono per il prezzo che hanno magari 80 euro no ecco 80 euro costano 80 euro magari no però a questo prezzo sì sono interessanti se anche a voi vi piacciono scrivetemelo nei commenti sappiate che questa usata sarà sulla trentina di euro su vinted visto che l'ho l'ho aperta e vinted lo trovate sotto trovate sotto anche negozi e tutto quanto io vi ringrazio per essere stati con me se vi ho tenuto compagnia ricordatevi di iscrivervi al canale vi prego vi scongiuro mamamelocompri.com per i vostri ordini ci vediamo la prossima puntata e giuro che non vi porto più tartaruga ninja ciao